Ciao a tutti e benvenuti al consueto appuntamento. Cosa degustiamo stasera? Siamo a Monbercelli d'Asti, adesso vi presenterò immediatamente un Barbera di quella zona. La cantina si chiama Luigi Spertino, il vino si chiama La Grisa, Vendemmia 2015. Andiamo subito a valutarlo. Iniziamo dal colore, questo bellissimo rubino, molto intenso, molto carico, molto netto, profumo. Sicuramente un vino complesso, piacevolissime note di frutta in confettura, mirtillo, ciliegia, mora, ma non si ferma qui, ecco, questa nota speziata di cannella in particolare. E poi una nota finale di cacao, caffè, molto intenso devo dire. Gusto Fresco Sapido Una buona termicità succoso, questo ritorna in maniera importante la frutta menzionata prima. Grande equilibrio, ti diamo presente che è un vino di 15 gradi ma assolutamente non li dimostra. Come abbinamenti suggerisco della carne rossa, dei formaggi di media e lunga stagionatura e sicuramente la cacciagione. Grazie, complimenti Luigi Spertino, veramente un ottimo vino. Alla prossima